Il coordinatore è quello cointeressato proprio della cordata. Questo giovane qui di ieri è più uno che lo mettono come responsabile di coordinare un po' di nottutto. Ma io non ho... ecco finisce tutto lì. Dopo la mattina glielo dissi, lui mi mandò un'email e mi disse, mi dissocio, io non ho organizzato nulla e via. A quello che conoscevi te, eh? Tutto lì.